Oggi niente fila per andare al pedocin. Niente, vero? Aveva fatto file nei giorni scorsi? No, sono scoppata via, l'ho fatto file sul solito. Adesso è tornata? Adesso sì che è un po' più civile. Porta di sicurezza installata a tempi da record già nella giornata di ieri e capienza lato donna è aumentata fino a 750 posti dai 500 iniziali. Niente code né proteste nella prima domenica al pedocin dopo la soluzione messa in campo dal comune per il rispetto delle norme di evacuazione dello stabilimento balneare che nelle passate settimane aveva generato diverse lamentere soprattutto tra le bagnanti. E quando facevamo le file era drammatico perché la gente si arrabbiava. Insomma adesso è meglio, molto meglio, molto meglio, molto più ordinato, più pulito. E noi siamo tutti felici perché così ci sentiamo più sicuri. perché avere la possibilità, se succede qualcosa, di scappare è l'ideale avere una seconda porta. Hanno aumentato la capienza proprio del pedocin, una cosa positiva? Sì, 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 assolutamente sì, sì, sì. Siete clienti abituali? Sì, da sempre, da sempre pedocin, sì. Il meteo è un po' incerto, non ha fatto registrare il pienone in questa domenica ma la novità è stata comunque apprezzata. Tutto libero, nessuna coda, tutto perfetto. Hanno aumentato la capienza? Così dicono, forse c'era un po' più di gente, non tantissima, però una quantità di gente ordinata. Ma io vado alle 8 e alle 11 vado via, per cui... Ma non ha mai fatto la fila neanche prima? No, mai. No, perché alle 7 e mezza non c'è fila. Tutto tranquillo, ma a dire il vero anche l'altro giorno che sono venuta e non era ancora la capienza aumentata e la fila è di 5 minuti, non eccessiva. Ma comunque io vengo sempre la mattina molto presto, vado via quest'ora per cui non ho mai avuto problemi di fila. Sono contenta per le signore con i bambini, comunque speriamo bene. Ce ne erano di più quest'oggi di signore con i bambini? No, che no. Per essere la domenica le anziane come me non sono venute, io sì. Come al solito. Ci tornerà in pomeriggio? No, basta così. Mai fatto fila per andare a Pedocin? No, io no, perché vado sempre di mattina presto, presto. Io sono tra le furbe che arriva alle 7 e mezza, per cui c'è poca fila, insomma, pochissima. Sono i soliti addetti ai lavori. Eppur non cambiando nulla nella sostanza, l'assenza di code fuori dallo stabilimento è stata salutata con favore anche dal lato uomini. Sì, sì, per noi non cambia niente, per le donne sì. Meno fila anche qua a vedere.